raghi su non mi fado arrabbiare la regina su dai a cura signorino va ti piace questa armetta lo so lo so lo so che la vuole restare lo so lo so lo so lo so lo so lo so ok si era anche la nostra taglia di sparo sulle chiappe e tu hai a ludare posti quello mi interessa sì 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 di gusto e d'allegria scendiamo noi andiamo a sciagallare tutto quello che ci serve lupacchione stai ferme un po mio dio queste già hanno l'armetta non è leggendaria si sia leggendario non è mitica molto molto voloso anche fan leggendario and signori ma è qui la festa molto voloso con questo nuovo aggiornamento ci mettiamo un attimo a realizzare tutto mitico abbiamo bisogno però di player in belli e selvaggi regina non ti voglio sfidare oggi ma ti lascio in vita o macchina macchina sospetta no 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 macchina sospetta no sono diventate delle larve sono diventate delle larve noi ci mettiamo sul tetto o fermi 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 che con questo gli facciamo molto molto più male no se ci buttano giù siamo belli che spacciati però probabilmente lo fanno e sì molto probabilmente lo fanno questo col cecchino però non ci prende fermi 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 notti di qua porca la miseria guarito scendi senza morire scendi senza morire ecco appunto si vieni qua il nostro problema è l'amico dobbiamo capire dove diavolo è andato l'amico con la macchina gigante potrebbe farci un attentato da un momento all'altro sicuramente lo sta aspettando alla fine di questo fiumiciatolo e lo sapete che vi dico per non sapere leggere e scrivere ci buttiamo all'interno di questo inseguimento matto anche se lui ovviamente sarà già dall'altra parte della mappa e la o alla faccia dell'altra parte della mappa stanno qua tanti vieni 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 c'è l'amico che è una larve quello non ci sta capendo niente signori fermi che l'amico non ci sta capì niente non ha capito minimamente a dove sto sparando occhio fermi questo altro però è bravo è qui sì lo sapevo che prendevi le ground larva la lar fermi l'amico eccolo ecco l'altra larvetta vieni qui larvetta vieni qui larvetta sì è bianco bello gustoso si finisci però finisci però finisci però ok finito fermi signori miei è devo stare molto molto attenti all'altro amichetto questo ho vado andato è scomparso in questa buzza signori l'ho visto che gallina no no eccolo di qua o mio dio ho presciato qualcosa o no la tempesta non ci voleva la tempesta non ci voleva però peggio per loro perché se vuole arrestare il suo amico non l'ha arrestato ok è qui o mio dio o ho visto no fermi che diavolo sta droppando tutta la roba a chi che non c'è nessuno noi ce ne andiamo noi ce ne andiamo non ci interessa niente altrimenti siamo belli che morti non so se aveva delle cure quel tizio ma penso proprio di no o mio dio e siamo dei morti che camminano siamo dei morti che camminano almeno che non ci inventiamo qualcosa ma non c'è niente di niente vediamo se troviamo un altro player in o no non c'è nessuno e siamo spacciati non mi dire che moriamo così davvero è non ci posso credere ce la dobbiamo fare di prego ce dobbiamo fare di prego la ma la ma qua davanti la ma qua davanti dammi qualcosa dammi qualcosa di gustoso dammi la ma dammi le cure da non ho scelto le no fermi ferri fermi non ci abbiamo bisogno della ma non ci abbiamo bisogno della ma siamo arrivati o sì che siamo arrivati il problemino è che ci sono player in avversari ok sì siamo arrivati belli tranquilli pure signor lama vuole venire qua davanti dobbiamo stare attenti perché c'era l'altro nemico il l'amico del tizio che abbiamo villato che sicuramente non è morto ma sarà qui da qualche parte quelle che sono delle cure volose dimmi un flopperino massimo e sguazzettine gianfranco niente male floppettino e sguazzettine e amici miei mi raccomando all'interno del negozio getti inserite assolutamente il codice più fresco del centro italia r4 ha preso la mia taglia il ferme l'ho visto proprio mentre lo prendeva ok ci dobbiamo sbarazzare di questo ok si ha ci ho sparato sulle ghiap e gli abbiamo fatto sentire la presenza sa che ci siamo sa che la sua taglia non è un pivellino sicuro al primo fight moriamo occhio dobbiamo trovare qualcosa di goloso che non è esattamente questo quello che stavo cercando però attenzione dobbiamo stare molto molto oh sì signorina dammi quella robetta ma porca la miseria ok sparano 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 anche di qua sparano anche di qua i quasi quasi mi mischierà all'interno di questo fight anche perché se non sbaglio abbiamo le ground si un cucciolino e nell'acqua che saltella vieni qua fringuellino 48 questo ho ascoltato come si nuova si è reso si è reso totalmente quel tizio molto molto bene molto molto buono o taglia due fermi stanno qui è stanno qui eccoli lo sapevo si si stanno facendo degli impicci noi siamo taglia massima fermi no ragazzi ragazzi bravi 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 ciao ragazzi fermi per me sì sì non ti intruppare contro gli alberi molto molto bene molto molto bene ora sicuramente loro so porca la miseria ci sta a modo schifo qui speriamo che non ci vedono sicuramente ci inseguono con la macchina è sicura ai 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 chi diavolo mi spara ma chi diavolo mi sparamo da dietro è possibile ragazzi non si è non si è un minimo liberi all'interno di sto gioco che diavolo era però diventavo tipo con i colori tutti dell'arcobaleno ok qui c'è qualcosa che ci potrebbe interessare per una probabile fuga che potremmo fare da un momento all'altro dobbiamo assolutamente stanarli prima che ci stagino loro ma dove diamo tutti quanti ok li vedo li vedo li vedo li vedo a no è una pianta ok sparano o no quello il fungo o questo però non è un fungo o sì o sì o sì o sì o mio dio triplo 48 ok c'è qualcuno di là c'è qualcuno di là io farei un impeccio signori miei andiamo a morire e andiamo a morire e andiamo a morire ufficiale sì così che lo andiamo a prendere questi qui lo andiamo a prendere ci sparano a noi ma no 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 vai sopra scull trooper bueno to lo school fermi signori perché se scende il malvagio siamo belli che morti ancora life occhio fermi 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 questo qui ci aspetta è questo qui ci aspetta qua sopra occhio non ci dobbiamo far sentire o mio dio che agitazione dove sei maligno maligno ok qui sicuramente da qualche parte il maligno non so dove qua no qua nemmeno dove diavola è il maligno era affacciato su un ramo su un tronco ok siamo minaccia se n'è andato il maligno siamo minaccia due comunque siamo minaccia due signori miei probabilmente quello lì è uno dei nostri cattivi lo frulliamo lo frulliamo lo frulliamo probabilmente vorrà anche restare qui c'era qualcosa che ci faceva volare non mi ricordo però dove esattamente o signorini noi abbiamo solamente ok abbiamo finito colpi troppo sbarazzini stati fin troppo sbarazzini qui ci fa volare vero no ok no non ci fa ce ne dobbiamo andare ho spiegato il jump io a non c'è un altro jump qui si jump a me ti prego già no no già un po di sotto senza morire ok senza morire fermi signori è fermi signori prendi questo al volo oh mio dio ok sono morti sono minaccia 3 loro sono in due questo è uno scazzone non era lui la taglia via 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 meno male che abbiamo incontrato uno scazzone ciao che lo sento di noi è un cinghiale un cinghiale un cinghiale che paura dove sono ma dove sono tutti qua ok 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 eccoli qui eccoli qui eccoli qui eccolo qui entrambi questo gli spariamo tranquillo si 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 ti prego chi l'amelo di vero in lavoro che hai il lato di lato di lato probabilmente loro sono ottici al nostro taglia occhio questo che si è questo che si sta inventando e la no non sono nemmeno loro la nostra taglia o porca la miseriaccia però può qualcuno ha buttato giù il masso fammi vedere se c'è qualche scherzo ok siamo di nuovo minaccia no 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 non mi piace questa cosa o mio dio che game il tempo la minaccia mi mette troppo troppo paura molto probabilmente sono dove sono quei funghi perché ora siamo minaccia uno di nuovo cinghialetto io ti vorrei far diventare o mio dio il cinghiale ha buttato giù un albero si è arrabbiato office ok sparano sono signori la minaccia 2 che ci beccano che sparano fermi fermi si dobbiamo andare a prendere sono qua sotto mega pump delle cure molto buono non sempre minaccia 2 siamo minaccia 3 sono loro è solo loro official sono loro official devastato devastati entrambi uno contro uno o mio dio che game è uscito fuori o mio dio quanti a forte star ma ci manca pochissimo per livellare la farla diventare mitica però aspetta 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 finiamo il game volevo cercare il cinghiale per far ok o mio dio so clean